Questo è un episodio un po' diverso, un po' speciale, l'unico che esce nel mese di agosto e ti voglio raccontare di un'esperienza incredibile che ho vissuto appunto in questo mese di distacco dal mondo, di un retrit, un ritiro che ho fatto in un ermo in Umbria in cui ho abbandonato la tecnologia, il web, gli schermi e ho vissuto per pochi giorni una sorta di vita monastica. Adesso ti racconto tutto meglio e lo faccio proprio come dice la sigla con un vocale su WhatsApp, nel senso che registro questa puntata a ruota libera senza avere fatto ricerca, una scrittura che di solito faccio per gli altri episodi dove appunto devo dare indicazioni precise partendo magari da un libro, da un podcast e magari analizzare tematiche un po' più cognitive. Questo invece è un podcast più di racconto, un episodio più di racconto. Ciao, io sono Laura Donadoni e questo è un nuovo episodio di Intrepidamente, il podcast che genera scintille, ovvero spunti e idee per affrontare in modo intrepido la vita e i momenti quotidiani. Condivido con te ciò che ha acceso la mia mente e mi ha aiutata nel mio percorso di vita e di carriera. Senza pretendere di insegnare nulla, come lo farebbe un'amica con un vocale su WhatsApp. Con un vocale su WhatsApp. Innanzitutto partiamo dal perché ho fatto questo, perché ho sentito l'esigenza di dover in qualche maniera staccare dal mondo. Banalmente perché mi sono resa conto che la mia mente continuava a tornare giorno dopo giorno sempre sugli stessi pensieri, non solo perché siamo immersi in una routine, ognuno di noi ha una vita fatta di routine, di abitudini, quindi le abitudini personali, prendersi cura di sé, della casa, della famiglia, del lavoro e quindi entriamo in una sorta di loop in cui pensiamo spesso e volentieri alle stesse cose, ma proprio perché anche durante i miei momenti di meditazione, di riflessione o quando mi prendo cura della mia mente, e quindi la terapia e la scrittura terapeutica, mi sono resa conto che c'era sempre un chiodo fisso, una sorta di tarlo, qualcosa che non riuscivo a superare. E quindi ho pensato che distogliermi da tutto, astrarmi da tutto, allontanarmi dalla mia routine e da tutti gli stimoli che io ho durante la giornata e durante la mia vita, avrebbe potuto aiutarmi a fare spazio per magari risolvere questo nodo. Quindi ho cercato proprio volontariamente sul web qualcosa che assomigliasse appunto a un ritiro. Non volevo isolarmi da sola, prendere e andare in montagna da sola e chiudermi in una baita, ma volevo qualcosa di più strutturato e anche magari con una guida spirituale o comunque con una sorta di programma. E mi sono imbattuta in questo ritiro in Umbria, in un hotel che è un hotel molto particolare perché appunto è stato trasformato in un ermo. Quindi non è un hotel come gli altri che tu vai e ci sono poi tutte le tue comodità seppur sei isolato dal mondo. È un posto che è stato ristrutturato e diciamo ha le sembianze di una sorta di monastero perché tu dormi in una celluzza che viene proprio chiamata così con un letto a una piazza e mezza molto piccola con uno scrittoio di pietra, con una doccia scavata anche questa nella roccia. Non c'è frigo bar, non c'è televisore, non c'è connessione wifi, non c'è il telefono, non prende la rete cellulare. È un tipo di alloggio molto curato ma frugale, essenziale. Quindi il senso di stare lì è tornare all'essenzialità. È un luogo che accoglie viaggiatori solitari principalmente, si chiama Eremito, si trova sulle colline Umbre in provincia di Terni, il comune è Parrano. E il proprietario di questo posto l'ha costruito, ha una storia incredibile innanzitutto che vi racconterò perché ci sto lavorando, è arrivato a costruire Eremito dopo una vita vissuta all'insegna proprio dell'imprenditoria, del successo. Cioè lui era un uomo che ha raggiunto l'apice attraverso un'azienda, un marchio famoso di lusso, di moda e poi a un certo punto ha capito che doveva tornare all'essenzialità e attraverso un suo percorso personale monastico e spirituale ha poi fondato questo resort. Come era impostato il ritiro? Allora, si trattava di quattro giorni, tre notti, in cui il programma prevedeva un risveglio la mattina molto presto, alle 6, 20 minuti di preghiera e meditazione guidati dallo stesso proprietario dell'hotel in una cappella ricreata sopra le celluzze nella torretta di questo eremo, meditazione che era di fatto una preghiera ma a religiosa, cioè senza riferirsi a una religione particolare proprio per rispettare tutte le fedi delle persone che arrivano all'Eremito. Ci sono tante persone che arrivano anche dall'estero, tante persone che non sono cristiane e quindi una sorta di preghiera universale, di letture con delle riflessioni universali, meditazione, poi un'ora, un'ora e mezza di yoga, prima di colazione. Yoga che si ripeteva poi anche la sera alla pratica dello yoga, verso le 17.30, prima di cena, sempre un'ora, un'ora e mezza. Il nostro maestro di yoga è stato anche una sorta di guida spirituale del nostro ritiro, tant'è che ci accompagnava poi anche durante la mattinata in camminate nei boschi intorno all'Eremo, dove c'era la possibilità di fare un bagno in un ruscello in una pozza, si faceva il bagno, alcuni tratti di strada li percorrevamo in silenzio proprio per aiutare la meditazione personale, altri invece chiacchierando con gli altri partecipanti del ritiro. Eravamo molto pochi, un gruppo di una decina di persone e, a mia grande sorpresa, ero l'unica donna. Io mi sarei aspettata invece il contrario, un ritiro improntato allo yoga e alla meditazione, frequentato principalmente da donne e invece erano tutti uomini tranne me e tranne una persona che però era stata invitata per raccontare questa cosa sui social media, quindi non aveva scelto di iscriversi a questo retreat perché l'ha cercato, ma perché è stata invitata e quindi questa era una donna. L'unica donna iscritta spontaneamente ero io. Gli altri uomini erano tutti più giovani di me, quindi tra i 30 e i 40 anni, tranne uno che era più grande, il saggio del gruppo. E questo mi ha stupito perché sapete che io mi occupo anche tramite intrepidamente di divulgazione sui temi della discriminazione di genere e lì sono stata io ad avere il pregiudizio e il preconcetto di pensare che un retreat del genere potesse interessare a più donne che uomini e invece sono stata subito smentita nel mio bias di genere incontrando uomini. E ho avuto anche la possibilità di scambiare con loro durante i passi, in realtà il pranzo e la colazione perché la cena si svolge in completo silenzio, opinioni e punti di vista sul tema appunto delle differenze di genere ed è stato molto illuminante. Quindi la giornata era scandita da questi ritmi. Tempo per noi stessi e per stare da soli ce l'avevamo il pomeriggio dopo il pranzo e lì si poteva scegliere se stare nella propria celletta a leggere, stare negli spazi comuni, stare con altri, stare nella spa, c'era un bagno turco, una jacuzzi o riposare, dormire e poi tornare a presentarsi alle attività di gruppo alle 17.30 con la pratica dello yoga. Finito lo yoga alle 7.30 alla cena, che era la parte forse più suggestiva di tutta la giornata, secondo me insieme alla meditazione del mattino, che era molto suggestiva. La cena si svolgeva in silenzio in questo refettorio monastico perché i coperti erano distribuiti in tavoli che si guardavano l'uno all'altro, quindi tutto intorno, in circolo intorno alle pareti, tutti guardando verso il centro della sala, con le luci delle candele, quindi in piena ombra, con canti gregoriani in sottofondo. Il personale e lo staff di questo eremo ci serviva una cena frugale di quattro portate, principalmente ogni passo aveva una portata di verdura all'inizio, la sera c'era sempre una zuppa, pranzo un insalato della verdura fresca, un secondo vegetariano e della frutta o un piccolo dolce. Non c'era la possibilità di scegliere, quindi si mangiava quello che c'era e lo si sapeva al momento, e anche questo è particolare per un hotel, cioè ti insegna ad accontentarti e a essere grato per quello che c'è, ad accettarlo, se non ti piace devi in qualche maniera fartelo andare bene o rifiutarlo consapevolmente, e quindi anche questo era un passaggio di consapevolezza, in più consumare il cibo in silenzio con questi canti gregoriani di sottofondo. Vi racconto un po' le mie esperienze, le mie impressioni, anche se lì ho cercato di registrare qualche audio a me stessa o mentre avevo qualche momento da sola per poi poterli portare in questo podcast, quindi vi metto qui adesso alcune di queste riflessioni che ho registrato lì in presa diretta. E' l'alba del primo giorno di ritiro, sono uscita fuori per non disturbare nessuno e registrare le mie prime impressioni. Ci si sente fuori dal mondo, ci si sente in una dimensione strana, diversa, si dà molto più attenzione alle persone intorno che condividono questa esperienza e quindi la curiosità è stimolata molto di più. Ieri c'è stata la prima cena in silenzio e è stata un'esplosione dei sensi, ma anche un po' strana e mi ha fatto sentire un po' a disagio il fatto di non poter parlare con gli altri proprio per la mia curiosità di riuscire a capire e a conoscere chi ho davanti e quindi è stato molto strano trattenersi appunto dal parlare, dal condividere, dal chiedere, dall'indagare nel mio caso. Ho dormito molto bene, c'è silenzio totale. Ieri nel venire addirittura ho visto degli animali selvatici, ho visto una volpe e niente, adesso la giornata inizia con la preghiera, la meditazione, lo yoga, poi la colazione e vediamo cosa ci aspetta per oggi. Per il momento tutto bene, non mi è mancato assolutamente né il web né gli schermi, non mi è mancata la tecnologia per il momento, ma è solo all'inizio, quindi vediamo come prosegue. Ecco, il giorno 1 che avverrà all'indomani dell'audio che avete appena sentito, è trascorso in maniera emotivamente forte per me. Il giorno 1 è stato il giorno in cui ho avuto, se vuoi, la mia prima crisi un po' emotiva perché cambiare la routine e i miei ritmi, anche solo banalmente spegnendo il cellulare e senza essere in contatto costantemente con la mia famiglia, con i miei cari o con le persone sui social, è stato già un primo creare spazio e creare silenzio intorno a me. Da un lato c'erano le persone del retreat, del ritiro, che attiravano la mia attenzione e la mia curiosità e quindi ho avuto modo di avere scambi e chiacchierate. Dall'altro però sentivo questo estremo bisogno che mi ha spinto poi a cercare un'esperienza del genere di silenzio, quindi di stare sola e appunto di elaborare i nodi su cui io sto lavorando. Voglio condividere con voi quanto tornare a una dimensione reale, quindi lontano dal virtuale, lontano dai social, lontano dalle notizie che mi arrivano ogni giorno nella vita quotidiana attraverso il telefono, il web, l'email, ha risvegliato in me la consapevolezza della presenza, cioè il saper stare nell'esperienza che sto vivendo senza essere distratta da nulla. So che sembra una banalità, ma quando sono stata lì ho capito quanto mi perdo delle mie giornate per colpa della tecnologia che penso mi faciliti la vita ma in realtà si prende buona parte della mia attenzione quotidiana. Quindi quella è stata la prima realizzazione e in questo spazio che si è creato intorno a me grazie al vuoto delle notizie, della tecnologia, degli stimoli di cui io mi nutro giornalmente anche solo attraverso l'ascolto di podcast, di libri, di attività, di ricerca che faccio per il mio lavoro insomma creando questo spazio intorno a me è emerso quello che voglio essere. Io qui non voglio andare troppo in profondità altrimenti diventa una confessione più che un episodio podcast però forse lo potete sentire anche dal tono della mia voce è stato davvero emozionante riuscire ad andare in profondità circondata dalla natura avvolta dal silenzio della natura, dai rumori della natura e a questo proposito vi lascio questo breve contributo che ho registrato alla fine della giorno 1 dopo la seconda cena in silenzio. Eccomi al termine del primo giorno è stata una giornata ricca di emozioni, di tante cose pensavo di annoiarmi, mi sono portata un sacco di libri da leggere invece è uno spazio che, questo dove siamo, che riesce a fare spazio dentro di te e ti accorgi dell'immensità che c'è dentro di te e che fa quasi paura da esplorare e quindi ci sono stati dei momenti in cui sono proprio andata un po' in crisi oggi in cui alcuni discorsi che ho fatto con degli ospiti qui alcune attività, alcune situazioni mi hanno proprio messo di fronte a chiedermi dei perché che forse rimando da tanto adesso abbiamo appena concluso la cena in silenzio e sto facendo due passi qui intorno nella natura prima di ritirarmi nella mia celluzza ecco quella sera la seconda sera quindi la seconda cena in silenzio per me è stata il momento rivelatore nel senso che se la prima sera mi sono trovata un po' a disagio a cenare in silenzio con queste persone con questi canti gregoriani e guardavo continuamente l'orologio nella speranza che questo momento un po' di disagio terminasse presto la seconda sera l'ho proprio apprezzato e quel consumare il passo in silenzio e concentrarmi sulle mie emozioni sui profumi, su quello che sentivo, sui sapori mi ha mandato in uno stato meditativo che ho voluto proseguire anche dopo cena dopo cena di solito c'era la possibilità di mettersi intorno a un falò e chiacchierare con gli altri ospiti prima di andare a letto quella sera invece io ho voluto conservare quel silenzio stretto ho voluto fare questa passeggiata lontana dagli altri quella che avete sentito appunto nel contributo audio e mi sono poi seduta ad aspettare di imbrunire e a guardare il cielo a guardare queste nuvole nel cielo e lì ho provato una gioia infinita ho provato la gioia di essere parte della natura parte dell'universo di essere piccola ho provato proprio a togliermi dalle spalle le responsabilità di essere qualcosa e qualcuno ma ho accolto la gioia di essere insignificante ho accolto la libertà di non contare nulla di fronte all'immensità della natura e del cielo mi sono messa in ascolto dei miei pensieri ho lasciato vagare la mia mente banalmente cercando di guardare le forme delle nuvole di immaginare cose fantastiche venire fuori da queste nuvole immaginare storie e ero affascinata dai viaggi della mia mente osservavo i miei pensieri senza giudizio ma con ammirazione veramente meravigliandomi della mia stessa fantasia della mia stessa creatività che da tanto tempo non sentivo così vivida così attiva così presente e lì è stato veramente un momento di pura gioia e di pura gioia dell'esistere non della gioia di fare qualcosa della gioia di essere qualcosa della gioia di essere con qualcuno della gioia di data da un oggetto o da un'esperienza era pura gioia di essere penso di essere riuscita a provare questa sensazione solo perché ho fatto spazio solo perché mi sono data il permesso di ascoltare il silenzio mi sono data il permesso di annoiarmi mi sono data il permesso di fermarmi di fermare tutto di non essere stimolata e di sedere nella noia e lì è arrivata la gioia la gioia veramente quello è stato il momento più bello del retreat per me ecco quindi voglio lasciarti e voglio trasmetterti questa questa suggestione questa idea che magari per riuscire a a raggiungere questa gioia questa gratitudine dell'esistere basta poco basta ritagliarsi dello spazio anche nella nostra quotidianità non c'è bisogno di andare in un eremo non c'è sicuramente bisogno e non è necessario per tutti fare un'esperienza estrema di questo tipo io ho scelto di farlo perché ne sentivo l'esigenza mi andava di farlo potevo permettermelo e mi rendo conto di essere privilegiata per essermi potuta permettere questo ritiro ma tornata da lì ho cercato di portare nella quotidianità queste buone abitudini in che modo? limitando il tempo di accesso ai social media a un'ora al giorno un momento preciso della giornata non li voglio far entrare nella mia testa nella mia quotidianità indistintamente quando mi annoio ma quando mi annoio voglio potermi annoiare quindi lasciare spazio alla noia questo mi sono portata a casa dal retriti e ho cercato di trascinare lungo tutto il mese di agosto e spero di riuscire a trascinare anche durante l'autunno e la ripartenza di settembre due lasciare spazio alla fantasia ogni tanto lasciare vagare la mente e appoggiarla ai pensieri e osservare dove si appoggia questa mente e cercare di andare dietro i nostri pensieri non tornare sempre alle solite cose pratiche alle solite cose quotidiane ai problemi alle cose da risolvere ma per mettersi il lusso qualche secondo qualche minuto al giorno di lasciare vagare la mente e osservare con meraviglia dove va perché quella per me quantomeno è la radice della creatività che poi sviluppa l'energia che metto in quello che faccio quotidianamente tre godere delle piccole cose quotidiane assaporare il cibo in silenzio godere di una chiacchierata con qualcuno anche di nuovo come mi è capitato nel ritiro di conoscere persone nuove senza interruzioni senza l'incursione della tecnologia senza rumori attorno concentrandosi davvero sulla persona che sia davanti ci nutriamo di relazioni umane abbiamo profondamente bisogno di uno scambio con gli altri solo che tante volte pensiamo che basti uno scambio virtuale che basti uno scambio sui social media che basti un messaggio su whatsapp in realtà il contatto fisico e la conoscenza profonda e reale in presenza delle persone è insostituibile e me ne sono resa conto dal fatto che intorno a me in questo ritiro c'erano uomini giovani persone più giovani di me che sentivano l'esigenza di cercare gli altri e quando abbiamo condiviso l'esperienza alla fine del ritiro molti di loro hanno detto che la parte più bella è stata trovarsi in sintonia con dei perfetti sconosciuti mi viene ancora la pelle d'oca nel dirlo seppur in poco tempo abbiamo condiviso frammenti importanti e profondi delle nostre vite e se me lo avessero raccontato prima di partire che io avrei condiviso cose così profonde con dei perfetti sconosciuti avrei detto no non è possibile io non sono una persona che si apre così al primo che viene e invece fare spazio ai sentimenti autentici e far cadere le armature significa anche questo essere vulnerabili essere disponibili poter vibrare con l'energia degli altri questo è concludo questo questo vocale questo episodio fatto un po' vocale su whatsapp lasciandovi un po' i suoni della natura che io ascoltavo ogni sera prima di coricarmi all'eremito e niente vi invito a trovare il vostro ritiro spirituale quotidiano dentro le vostre giornate a portare anche solo dieci minuti un quarto d'ora di eremo dentro le vostre giornate perché questo per me ha fatto la differenza questa volta non c'è cassetta degli attrezzi se non consigliarvi di andare a vedere Eremito il resort che trovate semplicemente googolandolo online e magari ritagliarvi appunto la possibilità di fare un'esperienza del genere al prossimo episodio got a psycho trapped within can't contain her crawling underneath my skin she's got humor she's just one of a kind out of mind mm 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 questo podcast è realizzato in collaborazione con Podcast Italia Network il contaggio e il sound design sono di Matteo Razzi ti ricordo che puoi trovarmi sui social o scrivermi alla email nella descrizione dell'episodio soprattutto se hai domande alle quali cercherò di rispondere in questo podcast intrepidamente è il nostro posto sicuro di confidenze scintille e stimoli seguimi e attiva le notifiche per non perderti il prossimo episodio e se ti è piaciuto lascia una recensione